Buon mercoledì amici di Bet Italia Web, puntata bella ricca, quella del mercoledì dove di solito parliamo di golf ma dobbiamo parlare anche di calcio con la Nations League, dobbiamo parlare di basket, c'è tanto basket, c'è il draft NBA, c'è l'Hockey Cup HL, quindi iniziamo subito con il programma di giornata, calcio, Nations League, ci sono 18 partite, ci concentriamo su quelle di Lega A come Belgio-Danimarca, Inghilterra-Islanda, Polonia-Olanda e anche Bosnia-Italia, le ultime news ci riportano di un Roberto Mancini che non ci sarà e non è ancora guarito, a Sarajevo gli azzurri sono favoriti a 1,35, una vittoria che vale le Final Four, Bosnia senza Dzeko e senza altri giocatori ma anche l'Italia arriva a questo appuntamento con gli uomini contati a causa infortuni, isolamenti fiduciari e positività al coronavirus, anche se va detto che gli azzurri hanno risposto bene con la vittoria recente contro la Polonia. Ci sono anche le qualificazioni ai prossimi europei di Under 21, Italia-Svezia, gli azzurini sono già qualificati, si gioca il vigorito ma le quote spavoriscono l'Italia a 2,90, Nicolato deve fare a meno dello squalificato Pinamonti, potrà fare un po' di esperimenti visto che non è necessario vincere però anche Ericsson dall'altra parte dovrà rinunciare a Kall e alla punta Giocheres. In campo anche il Lussemburg Italia e l'interessante sfida Portogallo-Olanda con i Lusitani che proveranno a sconfiggere gli Orange che sono ancora imbattuti, tra l'altro il Portogallo cercherà di vendicare la sconfitta per 4-2 subita un anno fa contro l'Olanda. C'è anche la Serie C, si giocano tre partite dell'ottava giornata del Girone A e si recuperano anche altre tre partite del Girone C, ne parliamo velocemente dopo con le tips di mercato. Tennis ATP World Tour Final, in questi minuti sono in campo Zverev contro Schwarzman, i due sconfitti del primo round e questo è praticamente uno spareggio per non essere quasi certamente eliminati, favorito però nettamente Zverev a 1,30. Questa sera alle 21, come al solito due partite, una al pomeriggio una alla sera per le World Final, Djokovic-Medvedev. Djokovic ha vinto la prima ed è favorito anche oggi a 1,40 contro Medvedev che a sua volta ha esordito alle ATP Finals con una vittoria. A inizio anno in Australia vittoria di Djokovic però nei due precedenti scontri del 2019 fu sempre Medvedev a vincere a sorpresa contro il Serbo. Passiamo al basket, tanta palla canestro, iniziamo dall'Eurolega dove questa sera torna in campo dopo tanto tempo l'Olimpia-Milano, favorita 1,30 contro la Stella Rossa, lungo stop dei ragazzi di Ettore Messina in campo europeo. La Stella Rossa aveva iniziato bene questa edizione di Eurolega, aveva anche vinto contro il Seska Mosca però nelle ultime due settimane ha vissuto una piccola crisi, ha perso gli ultimi tre match contro Kim Ki, Bayern Monaco e Real Madrid e attualmente al tredicesimo posto in classifica. Prima alle 18.30 e alle 20 si giocano anche Real Madrid-Maccabi e Alba-Berlino-Aswell. C'è anche l'Eurocup, Trento-Nantero alle 20 e Brescia-Mornar-Bara alle 20.30, sono gli italiani in campo oggi, Trento ha una quota in salita a 1.85 anche perché ha praticamente già strappato il pass per la top 16 e non ha necessità di vincere a tutti i costi grazie a un record di 6-1 però c'è da difendere il primato nel girone dall'attacco del Gran Canaria. Io credo che la quota di Trento sia un po' in salita perché mancano un paio di giocatori importanti per la squadra azzurra. Anche Brescia gioca in casa, anche Brescia ha una quota in salita e anche Brescia è comunque favorita, una quota che rimane più bassa rispetto a quella di Trento a 1.63. È però un pessimo momento per la squadra Lombarda che ha perso gli ultimi sette incontri disputati tra campionata e Coppa. Non vince ormai da un mese ed è all'ultimo posto nel suo girone con un record di 1-5. I Montenegrini invece al contrario stanno vivendo un ottimo momento di forma in Lega Adriatica, staremo a vedere. Basket Champions League anche, ci sono due italiani in campo, Burgos Brindisi con Brindisi che è in uno stato di forma letteralmente incredibile. 8 successi consecutivi, oggi la nona vittoria però è quotata alta. Ha tre volte la posta in trasferta in Spagna contro il temibile Burgos che ha perso 99-98 l'esordio in Belgio contro lo Stende e si vorrà rifare in casa. Ricordiamoci che il Burgos è campione in carica, ha battuto l'EK Atene nella finale delle Final 8 della scorsa stagione. L'altro italiano in campo è Bakken Biers contro Sassari. I danesi sono sicuramente un avversario abbordabile, lo vediamo anche dalle quote che danno i sardi molto favoriti a 1.40 nonostante la trasferta. Non finisce qui però il basket perché c'è anche la Serie A. C'è Treviso Cantù, recupero della quinta giornata della Lega A di basket, uno scontro tra squadre a pari punti. Si gioca il 18 al palaverde di Treviso, pari punti però i padroni di casa sono nettamente favoriti a 1.35. Ok KHL oggi solo tre partite però tutte ad orari accettabili visto che si parte alle 17.30 quindi abbiamo tutto il tempo di parlarne dopo anche in free pick. E chiudiamo il programma con il volley Italia Serie 1 femminile, Busto Arsizio Firenze alle ore 17, Cuneo Bergamo alle 18.30 e Trento Novara alle 19.00 sono i recuperi in programma oggi per il campionato di pallavolo femminile dove al momento domina Conegliano. Andiamo a vedere i risultati di ieri e anche ieri abbiamo sfiorato un altro all green, non entra per colpa di un misero angolino in under 21. La Slovacchia che ha vinto 6-0 ne ha battuti 10 solo lei, peccato che non ne ha concesso nemmeno uno all'Ikestein. Siamo ancora in corsa con la doppia di Darius che si completa questa sera, speriamo che si completi in modo vincente, abbiamo dato vittoria dell'Italia più over 1.5 nella partita con la Bosnia, ieri abbiamo già incassato Tsitsipas che non solo evita lo 0-2 contro Rublev ma addirittura vince 2-7-1. Tra l'altro bella presa anche di Insider con l'over in Eurolega di basket, Zalgiris contro Sesca e la vittoria della Francia in Nations League, non aveva bisogno di vincere a tutti i costi, però in casa i Galletti hanno vinto 3-2 contro gli svedesi. Vediamo anche su Instagram di Betty Maniac dove ogni giorno seleziono le giocate migliori e le free pick di sport americani. Ieri si è aperta bene la Week 12 di College Football, avevo preso Kent State a meno 24 punti di handicap, una linea davvero alta, però giocava in casa e contro una delle peggiori squadre degli ultimi anni, ovvero il programma di Akron, arrivato alla ventesima sconfitta di fila. Ieri Kent State ha dominato 69-35 e non ha avuto quindi problemi a coprire il meno 24. Anche oggi Mac Action con tre partite, Central Michigan-Western Michigan, Ball State-Nordern Illinois e Eastern Michigan-Toledo. Ne parlerò, selezionerò sicuramente una giocata sul nostro Instagram di Betty Maniac. Seguiteci, attivate le notifiche e tutto se non ci state già seguendo. Oggi c'è anche il draft NBA, ne parliamo dopo in free pick, vi darò un'idea sulla prima scelta. Tips, ieri tips di mercato ne abbiamo dati due, una l'abbiamo presa, l'altra no, abbiamo vinto in Brasile grazie al 2-1 del Sampaio Correa contro il Nautico, abbiamo perso in Europa col gol-gol di Spagna-Germania. A dire la verità i gol non sono mancati, ce ne sono stati ben sei, peccato che li hanno segnati tutti gli iberici. E' leggero positivo anche nel premium, quattro picche esatte, tre sbagliate, bella la quota per esempio di Zanardi sul gol-gol tra Malta e Isole Fauer a 2-10. Bella la vittoria segnalata da striker dell'Argentina contro il Perù nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Sud America e poi il solito insider che lavora di fioretto in KHL, ha preso sia la vittoria del Sibir che una doppia over-under, peccato la E-K-Atene nel basket. Avevamo giocato su una vittoria larga, meno 10 e mezzo dei greci, i greci hanno vinto ma solo di due punti. Da segnalare invece una brutta segnalazione Ecuador-Colombia, avevamo provato a giocare la Colombia con rimborso in caso di pareggio in Ecuador, io avevo perso il pallottogliere quindi mi ero anche un po' perso con il risultato finale, lo vado a vedere adesso, 6-1, già 4-1 a fine primo tempo, caffeteros davvero annientati ieri. E chiudiamo come al solito con il nostro Darius che fa tante belle cassine, anche ieri giornata super, un solo errore per il nostro Darius, tante belle casse sia col tennis, ha dato due singole, che col calcio ha dato una doppia a 3-33, già incassata, poi tra l'altro come detto siamo ancora in corsa con la free pick di Darius data ieri. E vediamo le tips di mercato, oggi la nostra redazione ce ne ha segnalate 4, 3 di calcio e una di basket, iniziamo da Italia-Svezia di under-21, over 2,5 a 1,66. Gli azzurini, come detto, sono già qualificati, formazione sperimentale probabilmente, segnaliamo molte giocate sull'over 2,5 con una quota che è scesa da 1,72. All'andata in Svezia è finita 3-0 per gli Scandinavi, terzo over di fila tra queste due nazionali giovanili. L'altro flusso di mercato interessante è Palermo-Potenza, vittoria del Palermo, assenza in porta e in difesa per il Potenza, molte giocate sui padroni di casa, con la quota che è calata anche intorno a 1,70 su quasi tutti i bookmaker. Su Unibet era ancora stabile a 1,80, ve lo segnalo se siete interessati. E poi ci spostiamo in Polonia, Division 1, giornata numero 10, Arca contro Zagrebli e Zasnoviec, anche qui over 2,5 è una idea interessante, assieme a over 1,5 dell'Arca a 1,86. La quota rimane alta intorno al raddoppio per l'over 2,5 che si gioca a 2,02, però sta calando, si giocava a 2,40. Inoltre registriamo molte giocate anche sull'over di squadra, almeno due gol da parte dei padroni di casa dell'Arca. Chiudiamo poi, in Eurolega, Lokomotiv-Kuban, Lietkabelis, Lokomotiv-Kuban, meno 21,5 punti di handicap a 1,90, non siamo in Eurolega, siamo in Eurocup, mi sono sbagliato io. Comunque, Kuban, squadra superiore anche in condizioni normali, gli ospiti arrivano a questa trasferta senza alcuni giocatori importanti come Masiulis e Maric, è peccato perché la linea del Kuban è decollata, si giocava a meno 13,5, adesso si prende a meno 21,5. Noi vi segnaliamo questo slittamento, questo aumento di linea, poi vedete anche un po' voi perché 21,5 iniziano ad essere tante, anche se come detto le forze in campo sono nettamente dalla parte dei padroni di casa. Passiamo alle free pick ufficiali, sono 5, iniziamo da quelle di calcio, c'è sempre da finire, come vi ho detto prima, la doppia mix di Darius, speriamo che l'Italia stasera vinca in una partita da almeno due gol totali in Bosnia. Le giocate di oggi sul calcio iniziamo da D'Artagnan, Serbia contro Russia, Russia drono beta 1,82, rimborsi in caso di pareggio sugli ospiti, questa mattina sono arrivati due nuovi casi di Covid per i serbi, Lazovic, Milinkovic, Savic, due giocatori molto importanti per questa nazionale che conosciamo bene visto che militano in Serie A, nazionale serba che è anche senza Tadic e Djuricic, il nostro D'Artagnan gioca sui russi però ci consiglia di prenderli assolutamente con rimborsi in caso di pareggio per non rischiare troppo, va detto che in 5 precedenti la Russia non ha mai perso contro la Serbia, 3 vittorie, 2 pareggi e appunto 0 sconfitte. La seconda giocata di D'Artagnan è sempre in Nations League, una tripla 1,86 sulla Lega A in questo caso, Belgio-Danimarca 1x, Inghilterra-Islanda 1, Polonia-Olanda x2. Belgio-Danimarca si giocano il primato nel girone, anche se al Belgio basterebbe un parigino, all'andata 2-0 di Lukaku e compagni in Danimarca, nello stesso girone deve vincere anche l'Inghilterra in casa contro il fanalino di Codislanda, già battuta a domicilio 1-0 l'andata, gli inglesi devono vincere e sperare. Nel girone dell'Italia invece l'Olanda si gioca il secondo posto in Polonia, agli Orange basterebbe un parigino dopo l'1-0 dell'andata contro i Polacchi. Passiamo all'Hockey-KHL con Insider che ci dà una giocata anche oggi sullo SCA San Petersburg vincente nei tempi regolamentari contro il Tractor a 1,94, qui però mezzo stake, investimento minore come vedete. Entrambe arrivano da 4 vittorie consecutive, secondo Insider sarà lo SCA a continuare la striscia vincente, SCA che è al secondo posto in coda al CSKA per quanto riguarda il gruppo ovest mentre il Tractor è terzo a est. Lo SCA ha perso 2-1 in casa, l'ultimo precedente contro il Tractor, però prima ne aveva vinte 6 di fila, 5 delle quali nei tempi regolamentari. Insider punta meno in questa giocata state 0-5 perché è un po' preoccupato dalle condizioni fisiche dello SCA che arriva dalla vittoria difficile per 3-2 in overtime contro l'UFA, però anche oggi dà fiducia alla squadra di San Pietroburgo vincente nei tempi regolamentari. Passiamo alle ultime due idee di basket, la prima è sull'Eurolega, di Insider, Alba Berlino contro Haswell, Lyon, Villurban, under 163,5 punti a 1,81. Vediamo cosa ci dice Insider, sfida tra le ultime due della classe che però hanno giocato meno partite per problemi legati al Covid, quindi potrebbero essere anche un po' arrugginite, il Lyon non sta ingranando quest'anno, arriva dalla sconfitta per 55-63 in casa contro lo Zenit, davvero una pessima prova offensiva dei francesi, in Eurolega Lyon segna solo 69,8 punti di media, problemi anche per l'Alba Berlino che fa poco meglio con 74,6 punti segnati di media, arriva dal 75-71 in Grecia contro lo Linipiakos, linea secondo Insider troppo alta, non si fa intimidire dai 174 punti totali dell'ultimo precedente tra queste due squadre ma era un altro periodo ed erano altri rendimenti per entrambe. Insider ci dice che è da giocare su un book che non considera eventuali overtime, per esempio Planet Twin. L'ultima giocata, ne approfittiamo per parlare di Draft NBA, anche qui questa è una mia giocata, prima scelta al Draft NBA di questa notte Anthony Edwards a 1,75 su Sisal, però anche qui investite meno rispetto al solito, mezzo stake. Anthony Edwards è stato il favorito negli ultimi mesi, anche se nelle ultime settimane la volontà di Minnesota ha fatto salire le quotazioni di Lamello Ball, fratello di Lonzo, ha svolto anche un workout con i Wolves che però in posizione di point guard hanno già D'Angelo Russell oltre a Carl Anthony Towns che come centro dovrebbe evitare la chiamata di quello che è il terzo incomodo tra Anthony Edwards e Lamello Ball, il terzo incomodo è James Wieselman che ho seguito a Memphis con Penny Hardaway, prima della decisione dell'NCA di non farlo scendere in campo. Questo lo ha fatto un po' sparire mediaticamente, però secondo me un ottimo giocatore potrà andare anche alla 2, visto che è un tipo di giocatore che potrebbe anche servire a Golden State. Tornando alla prima scelta, per me Edwards è più pronto, oltre ad avere un potenziale fisico davvero incredibile, un giocatore esplosivo, è anche più spendibile in un eventuale trade. Giochiamo quindi, prima scelta sul prodotto di Georgia, Madgo Steak come detto, visto che il 2020 è stata una stagione complicata dal Covid, interrotta senza merch madness, quindi abbiamo perso molti riferimenti importanti, non è facile per nessuno, secondo me neanche per gli analisti andare a fare questo draft, però secondo me alla fine Minnesota prenderà il prospetto migliore che per me non è ball. Siamo arrivati al golf, dopo i fasti del Master il PGA si sposta al San Simon sul tracciato del Sea Island Resort con l'RSM Classic, anzi in verità si gioca su due tracciati, Sea Island Resort per le prime 36 buche, mentre al Seaside Course ci saranno gli ultimi due giorni, il sabato e la domenica. È un par 70 da 7500 yard con green in T-Figol Bermuda Grass, qui serve avere buone statistiche di approach e proximity. Campione in carica Tyler Duncan, io ho scelto 6 possibili vincitori nel servizio premium, come sempre divisi tra favoriti, quote di valore e long shot a quota alta e come al solito ve ne riporto 3 in free pick e vi riporto anche uno dei 4 testa a testa che ho selezionato per l'RSM Classic. Allora, iniziamo dal favorito Web Simpson che è anche il favorito assoluto dalle quote e io qui mi accodo, mi sta bene, lo prendo a 10 volte la posta. Come value bet è assolutamente quota di valore da provare quella di Russell Henley a 23 volte la posta, mentre il colpo a quota alta è un nome che ultimamente ho selezionato molto ed è Doc Redman, si gioca a 56. Per quanto riguarda il testa a testa sulle 72 buche, quindi sull'intero torneo, sono andato su Sunghia e Him meglio di Tommy Fleetwood, a 1,85 è una quota, un testa a testa che trovate su SNAI. Fleetwood non lo vedo benissimo, lo vedo un po' in calo, il gioco di Him si adatta molto bene a questo tracciato, secondo me potrà fare molto bene. Torna anche l'European Tour con lo Joburg Open dal Rand Park Golf Club di Johannesburg, primo dei tre eventi sudafricani che ci attendono prossimamente. Il Fireton Course è un tracciato par 71 molto lungo, visto che parliamo di 7.506 yard, i green sono in Belgras. Qui servono ottime statistiche di Around the Green, Accuracy, Green Regulation e anche Scrambling. Campione in carica è Shubaknar Sharma che ha vinto l'ultima edizione, quella del dicembre 2017. Anche qui ho scelto quattro possibili vincitori, nel servizio premium ve ne do un paio. Come favorito proprio Sharma che si gioca a 26, campione in carica, in Portogallo ha afferto la sua miglior prestazione come putting, ha superato il taglio in 5 eventi consecutivi, compreso il quattordicesimo posto al recente Ciprus Open. Lasciamo stare le value bet solo per il servizio premium, come quota alta in tripla cifra, io provo Scott Hand a 126 volte la posta, di recente è apparso abbastanza in forma, undicesimo posto al Renaissance Club per quanto riguarda lo Scottish Open, decimo anche a Wentworth, ottimo in diverse statistiche utili in questo tracciato come Total Driving, Ball Striking, T2 Green e anche Scrambling. Non parliamo proprio di un giocatore mai sentito perché Hand in carriera vantaggia tre titoli European Tour, inoltre è un giocatore che sa farsi valere su tracciati con un'altitudine importante come quello di Johannesburg e quindi anche questo aspetto della rarifazione dell'aria, dell'altitudine di questo tracciato è un aspetto importante e secondo me Scott Hand a 126, un caffettino ce lo possiamo anche scommettere. Bene, siamo arrivati alla fine, io come al solito vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo di continuare a seguirci su tutti i nostri siti, social, telegram di riferimento, tanto trovate tutti i link qui sotto, usciranno altre giocate, consigli nel corso della giornata e soprattutto noi ci ritroviamo domani con la puntata del giovedì, quella dedicata ovviamente a calcio, basket, hockey eccetera eccetera, quelli li seguiamo quotidianamente, ci sono le free peak e tutto però spendiamo qualche parola in più sui motori, come ogni giovedì dobbiamo parlare se non sbaglio dell'ultimo gran premio di MotoGP, non vorrei confondermi con la Formula 1 ma credo che ci sia, non ho ancora visto nulla, non mi sono ancora sentito con il buon Panda, il nostro esperto delle scommesse sui motori, quindi domani non mancate sempre dopo pranzo con il nostro appuntamento su YouTube, io vi ringrazio dell'attenzione, siamo andati lunghissimi, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse, puntate sempre con la testa, ciao!